Ah, ecco, questa è l'idea, no? Cioè che la biblioteca mi sovrasti. Forse ti puoi anche allontanare, oh? Quando sono nata, mio padre aveva già avuto tante vite. Victoria, Colombia Britannica. E dopo Seattle, Canada. Parigi, Svezia, Berlino. E il circolo polare artico. Io sembro una spia. Quasi 80 anni di giornalismo. Lui si chiudeva per scrivere. Qualcuno però andava a disturbarlo. Mettiti lì, che ti faccio la fotografia. Come vuoi prendere questi capelli con sé? Mi sento il suono, poi io ce la faccio quello che mi pare. La biblioteca mi parla. Guarda, in questo caso, c'è l'archivio. L'archivio mi racconta. Le fotografie mi aiutano a comprendere. E quindi io sono indecisa. Perché è difficile decidere cosa tenere e cosa lasciare andare. Hai aperto proprio il cassetto segreto. Ha, 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 ha.